Il Doodle di Google del 4 aprile è diverso dal solito e lancia i suggerimenti utili per contrastare la pandemia da coronavirus in maniera molto originale. Nuovo Doodle di Google del 4 aprile che con un disegno divertente ci porta a scoprire quali siano i suggerimenti per contrastare questo virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Cosa significa il Doodle di Google del 4 aprile? È sempre una bellissima sorpresa quando, aprendo il proprio browser per accedere al web, si nota un nuovo Doodle del colosso americano. Ogni volta un personaggio da scoprire, una nuova avventura, un gioco divertente oppure qualcosa di estremamente originale. In questo periodo dove tutta la popolazione mondiale è costretta ad osservare regole e misure straordinarie, al fine di contrastare la pandemia da coronavirus, il colosso non ha lanciato nuovi Doodle, restando sotto tono. Questa mattina però la piattaforma ha voluto regalare un nuovo disegno sul suo logo con le istruzioni su come stare al sicuro e stare soprattutto a casa. Una immagine colorata che lancia il messaggio Stai Atom, Save Lives, state a casa, salvate delle vite, con tutti i coronavirus tips, suggerimenti, per combattere la pandemia globale. Una bellissima idea che porta direttamente ai link più utili dove si possono trovare statistiche, suggerimenti, news e tutte le informazioni della comunità scientifica che possano dare risposte alle tante domande. Un piccolo regalo da parte del colosso americano, al fine di poter osservare le regole base e seguire con attenzione quelle che sono le disposizioni ufficiali, dal lavarsi le mani per 20 secondi regolarmente sino al coprire bocca, naso e mani con i dispositivi di sicurezza. Un logo che unisce quasi tutto il mondo, non essendo visibile Turchia, Cina, Arabia Saudita, Filippina e una grossa fetta dell'Africa. Cina, Arabia Saudita, Filippina e una grossa fetta dell'Africa. Cina,oria Saudita, Filippina e una grossa fetta dell'Africa. Cina, minuti, f Lincolnral speaker, cina,onia, ätter attenzionella, Faith worriedosi la nostra kapcha, le poter au